Mi chiamo Lampo, ho qualche parente in paese, anche se i parenti più prossimi sono morti. I fascisti hanno ucciso mio fratello, mi resta mia cugina e poco altro. Siamo in trattative con i fascisti che forse vogliono aiutarci a evitare che gli uomini dell'SS sterminino il nostro villaggio. Ma dobbiamo ancora decidere, non c'è accordo su questo. Io non credo che possiamo davvero fidarci, anche perché ci hanno fatto questa richiesta solo adesso per disperazione. E inoltre le condizioni che ci hanno chiesto sono molto dure. E inoltre le condizioni che ci hanno chiesto.